È stata una fantastica esperienza aver segnato, purtroppo è valso a poco. Ora non dobbiamo abbatterci, siamo pur sempre all'inizio della stagione, abbiamo giocato poche partite, sono state giocate appunto poche gare. È necessario però lavorare sodo, forse anche più di prima. Dobbiamo far fronte a tanti infortuni, a prescindere da questo, che non deve essere comunque un alibi perché sarebbe troppo facile. Dobbiamo iniziare presto a portare punti a casa, punti a casa e fare delle vittorie. Start believing in ourselves.